Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team Amici della Serie A Team, buongiorno da Federico Zanon e benvenuti a Palermo-Sandoria partita che vale la ventisesima giornata di campionato è un lancio match decisivo per il Palermo, un altro match da dentro fuori deve vincere per salire a meno 5 dal quarto ultimo posto e dall'Empoli per riaprire il discorso salvezza, di fronte via si parte, è iniziato il match Barreto, Cigarini, prima intenzione, palla che passa, Quagliarella Quagliarella la mette fuori, era tutto regolare che occasione per la Samp Reggini, Cigarini, a un buon destro, ci pensa, ci prova, Posavec, in calcio d'angolo Salai, ha l'esame, mezzo a Nestorowski, le cross è per Baloghe, alla che rimane lì e alla fine Viviano, a dire di no a Baloghe, con un super intervento era tutto regolare, che parata di Viviano in ritardo Reggini, rispoli al cross, interessante per Nestorowski, poi Baloghe nell'anticipo, calcio di rigore fallo di Berezinski su Baloghe, calcio di rigore per il Palermo alla fine va Nestorowski con il sinistro, conclusione centrale, e avanti il Palermo con il decimo gol nel campionato di Nestorowski un gol molto importante per il Palermo che sblocca un match complicato Ciocev è, arma al sinistro, ci prova Ciocev è, non esce di molto alla sinistra di Viviano, ancora Palermo Ciocev è, qui ha il tempo per provare la conclusione, Viviano controlla Pronti via si parte, è iniziato il secondo tempo sui piedi di Gazzi, che allarga subito per Rispoli stop e cross, che arriva interessante, Nestorowski non ci arriva alle sue spalle nemmeno Ciocev è, ma non è finita Baloghe, tiene viva l'azione per il Palermo pallone sul secondo palo, Silvestre va in cielo non trova la porta una specialità, sicuramente il colpo di testa su calcio piazzato per Silvestre accelera Rispoli, mezzo Nestorowski Rispoli, il cross all'indietro la conclusione con il sinistro, poi Nestorowski, Viviano prima Zalai, poi Nestorowski si rimane solo 1-0 chiede il pallone tra le linee, si va invece larghi da Quagliarella il cross per il colpo di testa di Schick Posavec, per il colpo di testa di Bruno Fernandes perdona, Posavec è reattivo si era inserita la grande Bruno Fernandes dentro da Muriel Muriel, puntandelkovic Muriel in area di rigore, va sul destro Muriel cerca Quagliarella Quagliarella Fabio Quagliarella il gol della Sampdoria 1-1 ha perso un pallone sanguinoso Bruno Enrique Nestorowski, diamanti in area di rigore tocca a Viviano in calcio d'angolo Bruno Enrique passa su Embalo Bruno Enrique spazza via non c'è più tempo ecco la parola fine finisce 1-1 tra Palermo e Sampdoria Grazie a tutti Grazie a tutti.